Perché mi avete voluto urgentemente qua? Forse sei fatta viva la famiglia di popperia. Ma io non l'oro a nessuno, a nessuno! Non è il momento delle spiegazioni. Venite, Suor Celeste sta per rendere l'anima a Dio ed ha espresso il desiderio di vedere tutti e due. E chi è Suor Celeste? Venite. Maria! Tu! Maria! Non più Maria, ma Suor Celeste. Non più Maria, ma Suor Celeste sta per rendere l'anima a Dio e la conosce, a Suor Celeste. Vaneva tutte le ore, forasciò. Quando varò la bella, ma di cielo. come una mamma, come una mamma, come una mamma abbraccia. Maria, ma di cielo. Maria, ma di cielo. ma di cielo. Maria, 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 ma di cielo. C'è il nome di stucchi, perché non lo farà Quando l'indibbraccia pot morirlo, abbraccia la papà Papà, non mi capisci che il sole celeste Senta, senta il lavoro tu che stai dicendo Mamà, mamà, no Io non ci credo La sua, la sua non può essere, mamà Maria, la sua regla celeste Scusa da Cristo, papà Maria, la sua regla celeste Scusa da Cristo, papà Peppino Mamà, mamà Maria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti